Buonasera, buonasera. Oggi c'è Onaz ragazzi perché c'è un ospite. Ma che cosa fa? Ma cosa sta facendo? Ragazzi dovete sapere che io sono una persona molto corretta nel calcio lo sapete sono molto corretto Non è che mi altero, non è che mi agito, non è che insulto, sono molto tranquillo Ma questi me stanno proprio sul cazzo, mi stanno proprio sui coglioni I tifosi con le magliette d'Erbodo che ho scritto Lulic 71 in giro per Roma oggi Porco due frate, c'è questi qui, non so se vi è stata rende conto Chi è l'arbitro? Ma pare anima Come stai? Io ho detto, ho detto ultima volta, abbiamo fatto una reaction in sé e finita male Però Oh! Tagliela! Tagliela! La paura mia è che partimo tipo a mille tutti davanti Infatti vedo belli avvelenati Il problema dei demoring è che tipo te tira tutti dritti, dritti per dritti davanti Bravo Niko! Bravo! Dai che cazzo, il cazzo d'angolo, ecco il gore! Questa è pallantesta a cristante No, perché è corto, volevo lungo Eccolo! Piazza ballone! Piazza ballone! Quattro c'è il cazzo! E' sul gelato, ve famo! Dammi! E' sette metri a bramme! Sette metri! Perché il brodo si riunisce Il brodo si riunisce Mettice un po' di dato sul brodo Teste de cazzo Potenzione di cristante era chiaramente regolare Forza Rome! Forza! Ha preparato la gag o più no? La gag pazza La gag quella brutta che non volevo vedere Non me ne va sta merda che porta a sella Bravo, levatela Puttalo! Mamma mia, ma chi è? Quello che è per cosa? Hai visto Iniesta dei tempi moderni? Brian cristante Oh, capocannoniere dalla conferenza Dammi a bramme! Dammi a bramme! Portacci, tu è del cazzo che si ritrova Bravo! Bravo! Adesso devi aggiornare la scritta sulla stream Grazie, master È vero, è vero La scritta che non neanche avevo messo io Brian, bravo Brian! Guarda quello da... Oh, fallibile! No! Bravo! Metti in mezzo! Eccolo! Oh, porco Dio! Questa dove andrà però, zi, eh? Questa dove andrà? Guarda Brian e mezza, otto persone, bravi! Bello! Oh, porco Dio! Ma mettetela a fare il gista, Smalling! Bello! Guardami chi da... Fallo, ref! Fallo, ref! Bravo! Lo squalo! La pinna dello squalo che esce! Bravo, Brian! Bravo! Non c'è credo, non c'è voglio crede! Tira! No! No, yeah! No, yeah! Mamma mia, Brian! Che piedino! Guarda che palla! Ma Brian, sì, cioè, se effettivamente sta, cresce! Tosto a D! Tosto a D! Sì, abbiamo capito! Dai, Nanno mi deve fare così! Staglia in cristante! Abram, poi tocco dentro a cercare Zagnolo! Sì! Sì! Nucano! Ma come cazzo gioca sta lupa? Allora, potrebbe essi, si con... C'è, sapeva un po' di porcciuchino, eh! Dei tammi, vè! Dei tammi all'inizio, vè! No, è buona, tammi! È buono! Zagnolo è buono! Madonna che go, regà! Che cazzo de go! Tutto de prima, frate, insane! Vello! Veccholo! Foglie bene! No! Azzolla! Azzolla! I miei usurpati! Però, se continuiamo così, frate, io, mamma mia, dobbiamo fargli altri cinque, porco, due! A grafica! A grafica! Bravi! Ma gli sta smordini che se mangia le carote, se mangia, zì! Ma dove vai? Impiamo un gol da garcio d'angolo, porco Dio, impazzisco, sei morti sei metri, eh! Eh, Brian! Corri, corri, Nico! Corri, Nico! No, mi deve venire a mettere in Zaleschi, pazzo! Bravo! Zaleschi sul destro, gran palla per Zaniolo! Mi fai godere! C'è il successo! NICOLO! 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 Piedra l'alander culo! Arriva, arriva! Arriva il culo! È il cucchiaio! Ah, zì, Zaleschi mi... Zaleschi... Zaleschi, clamoroso, zì! Guarda come... Guarda che palla, poi! È vero! Zaniolo, come nell'altro punto, zì, c'è solo una cosa da dire! Lucido, freddo... Sì, ne volemo tutti! Sei pere, zì! Sei pere! Ah, sì, comunque tre pere in trenta minuti! È vero! Io ve lo dicevo da ieri, tre pere in trenta minuti! È vero! Cos'è quant'è la città all'uolo per due e mezzo? È... È... Vai, Miki! Fagli male! Vai, Lollo! Che sella, porco! Raff! Raff, è regolato il vantaggio! Ma riportarcela se dà regolato il vantaggio! Ma svegliate, questo è fallo! Allora, sì, il secondo tempo sarà, secondo me, ammazzata Perché questi mo' si buttano tutti davanti, si buttano, eh! Allora, se vede, guarda qua, i primi cinque minuti del secondo tempo Che poi sono, attenzione, il secondo tempo è la Roma, cala sempre C'è tutta la stagione che la Roma, il secondo tempo, almeno fino al settantesimo cala Poi dal settantesimo si riacchiappa Allora, hai sentito Zaleschi che quando parla? Romanissimo! Più romano di Mexes Sì, sì, sì! Ma io ci parlo, io ci parlo con... Con Zale, sì, sì! Ma dai tempi della primavera che ci parlo con lui, eh! Oh! E' bello! Bello! La tripletta di Nicolò! Gatto come un riccio! Gatto come un riccio! Te la meriti tutta, sta tripletta! Te la meriti! Te la meriti tutta! Te la merita tutta! Ma guarda che palla, Brian! Il pro basso di sinistro sotto al sette Uno più bello dell'altro, il god del zanologio Che è successo? Il Bob l'ha giustatuto Oh no! Si è staccato un piede! Hai rimesso! Vabbè, mergold! Madonna, frate, Brian Cristante appena esce Deve passare a casa mia Deve venire a martellare, porco due Oh! Mi devi venire a martellare, Brian! Mi sbatte sul letto, porco zio! Famo un macello, famo! Porco zio la grafica! Lo stop ci ha orientato per Pellegrini Fa quello che vuole la Roma Fa semplicemente quello che vuole Ma che cazzo io fai? Pellegrini preferisce andare in avanti No! È la sincrata dell'andare in avanti Eh, c'è stata la sincrata, c'è stata Same reactions Ah 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 Lollo, te prego, fai io pure te Ah 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 Eh, guai appoggiata, eh Sì, sì Guarda quanto è bello, Nico Ah, ma! Mamma mia, guarda Sulla pelata di questo che piangono E me ce sego stanotte, oh! Chi è? No Eccolo qua Il seno rintesa con Mourinho No! Che schifo! Che schifo! L'odio! L'odio! Appena Joan Ghani Però te fidi che con tutto il campo Che gli stanno a lasciare questo vola? Ma tu hai visto? Non mi ricordo su che pagina di meme Della Roma Ho visto a Fena gioca male E praticamente c'era il video di Mourinho Che dà le scarpe a Fena Però tutto in reverse Quindi di Mourinho che si riprende Le scarpe che gli hai Come gestire tutti i giocatori A trovare le brezze Ah sì, quando entri nel Arcolosseo Cioè non puoi uscire O esci gladiatore O esci leone E se è uscito leone sconfitto Guarda Ghost Dread come fischia Bravo Ghost Dread L'ultima italiana purtroppo in corsa Nel poverito Goduria Aspetta me sta a chiamare qualcuno Ah vedi è l'ordine che ho fatto dai surgelati prima Sì mi serve un Com'è che si chiama quello? Un velcan Come cazzo si chiama quel tizio là? Solbaken Solbaken Sul gelato E poi chi cazzo altro c'era? C'era un altro? Vabbè quello lo lascio Sì solo il Solbaken Grazie Ciao 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 Bravo bravo bravo